Sono sette le criticità nel bilancio di previsioni 2019-2021 della Regione Calabria che sono state accertate dalla Corte dei Conti. Il dato emerge da una deliberazione adottata nei giorni scorsi dalla sezione di controllo della magistratura contabile calabrese all'esito di un'istruttoria che ha seguito vari passaggi tra cui la richiesta di chiarimenti alla Regione Calabria e la trasmissione da parte della Regione delle proprie contradduzioni. Le criticità riscontrate riguardano essenzialmente il settore della sanità. In particolare, con riferimento al bilancio di previsioni 2019-2021 della Regione, la Corte dei Conti ha anzitutto registrato la mancata adozione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il mancato rispetto del quadro normativo vigente in materia di programmazione degli investimenti nel settore sanitario, la mancata adozione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, la carenza di elementi di riscontro, alla valutazione del fondo rischi, la mancanza di chiarezza, sulla integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale e la mancata indicazione di uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento al quale condizionare almeno il 30% della corrisponzione dell'indenità di risultato, la mancata sottoscrizione di una parte dei contratti, che definiscono i volumi, delle prestazioni erogabili dagli operatori privati accreditati, la mancanza di chiarezza sulla ricognizione dei debiti versi i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2018. Nella delibera, la sezione di controllo della Corte dei Conti, inoltre, si legge ancora, invita la Regione, al fine di agevolare l'applicazione della riforma contabile, a procedere ad un complessivo adeguamento della normativa regionale della recente riforma in materia di urbanizzazione contabile e dei bilanci pubblici. Nel provvedimento, poi, la Corte dei Conti prende atto che il Collegio dei Revisori della Regione Calabria non ha inteso fornire proprie contraddizioni a una nota di chiarimenti inviata dalla magistratura contabile. Nel dispositivo della deliberazione, infine, la Corte dei Conti dispone che i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano all'adozione delle misure conseguenziali alle criticità segnalate.